E' un sito Marco Terenzi con un dossier, chiamiamolo così, in cui boccia in toto l'amministrazione dal suo insediamento ad oggi. Fa un elenco molto dettagliato e preciso di cose disattese non fatte ma anche di comportamenti forse a limite dei regolamenti se non oltre. Io prima ho sentito l'ex sindaco Bertoncello chiedendo cosa ne pensava se anche lui bocciava in toto e ha detto di sì. Lei, dovendo giudicare questa amministrazione da ex candidato sindaco che ha analizzato ben tutte le problematiche in essere e aveva un suo programma, che voto dà? Come le giudica? Allora, premesso che io ho appoggiato esternamente al valottaggio questa amministrazione. A questo però avevo avuto garanzie di tre cose. Era confronto, ascolto e programmazione intelligente di ogni intervento. Tutte queste tre sono state disattese. Quindi io a questo punto mi trovo pentito della scelta fatta. Quindi per adesso boccio questa amministrazione per gli interventi fatti e per il modus operandi in cui attua gli interventi, senza collaborazione, senza ascoltamento. e soprattutto senza competenze. Attenzione, è molto importante perché ci creano più danni senza competenze che senza programmazione. Quindi è importante la competenza. Grazie a Lorenzo Tomeno.